Tiara, apri gli occhi Non so se ha visto o mi sta dicendo No, no, non apri gli occhi Quando vuoi Proci Eccoci Vediamo in quanto esce Vediamo se sarà sola E andiamo una sera 75 era questa 76 77 78 Ciao Razor 79 Ok, 80 All'ottantesima, che bella All'ottantesima La bimba è arrivata a casa Ci siamo E' la prima? Ecco, è la prima 67 Thundering Pulse Andiamo E andiamo, sì ragazzi Luce Dorata Ci siamo Puoi chiudere gli occhi da adesso Ok Ok, puoi cliccare Puoi cliccare Puoi cliccare Acri gli occhi Ho paura Beh, cazzo Lo sapevo Mannaggia Il mago in a trick E vediamo se esce il doppio 5 stelle Pt64 Pt64 5 stelle 75 Quindi la scommessa Ha vinto il no Esce prima dell'early pity Cioè del soft pity No E' uscita sicura Almeno la 76 Quindi la scommessa Ha vinto il no Mentre la rendete Vado a pt76 77 Eccolo C4 Oh Eccola multi Che volevamo prima Un bè per tiar Un bennet E naida Quindi 77 Con il nostro bennet 78 Con naida Che bella multi A fare la multi Del 5 stelle Ci siamo Bennett c12 76 Sì è 65 76 Mona Niente Abbiamo Mona Multi 5 stelle Che sappiamo essere Naida Vediamo quando esce 75 76 77 78 79 80 100 Superato l'80 81 Pt81 Pt81 Pt74 Di nuovo 50 50 5 stelle Vorrei Io non so se ce l'ha Vorrei Aspettate no Le ho guardate 5 stelle Prima Mi sa che non ce l'ha Tanta Early Naida Early Dov'è 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 Eccola qua Peppa 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 65 44 4 Fermi 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 Siamo a pt38 35 35 35 36 37 30 La voglio io Andiamo a portarci a casa la C2 75 76 77 78 Eccola 78 La C2 Di Naida Seguite da Noelle 1 2 3 4 5 6 Stop Esatto Altri indicazioni di forum E' venuta in live Siamo a pt6 Quindi 16 4 stelle E adesso facciamoci 3 26 36 36 46 46 Biobasita Ehi su C'è scritto Gnu Gli mancava E anche qua 3 4 stelle Biobasita Vi giuro Vi giuro 56 Biobasita 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 Erli Si è andati a 66 adesso Non a 76 Non a 76 Si è andati a 66 Non a 76 Vabbè Allora 57 Mona Si perdono tutti ragazzi incredibili Mona 1 2 3 4 5 6 7 8 Stop Mona Constillata Ok Tiriamo queste ultime due multe E poi convertiamoli in star glitter Aiuto Però Abiti Bassissimo Abiti 8 Quindi questa è la 9 Alla 10 Abiti 10 Abiti 10 Abiti 10 Abiti 10 Abiti 10 Io Biobasita Vi giuro Una idea carinissima Si 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 sono accordo Abbiamo Ragazzi Io Biobasita Vi tiro questa multe E poi vi converto Tutti gli star glitter A quanto siamo? 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 Di nuovo Mona Di nuovo Mona Perché in questo banner il 50 e 50 non si vince Vai Aiuto Ci siamo Aiuto è subito Alla 75 Ok no Oddio Oh Gesù Grazie a fare 76 Ah Piggy Non l'aspettavo Nemmeno io Però in realtà se perdevo lo volevo Dai Quando vuoi Puoi andare Si 5 stelle Quindi Naida Ce l'abbiamo 75 Fermo così Davide Porendi pure la scommessa Perché non esce prima del soft Perché questa è la 75 Ha vinto il no Non è uscita in early Se lo vogliamo definire Ripiti questo E adesso procediamo E continuiamo 76 77 Ciao Anto 78 79 90 Si 90 80 91 92 Alla 82esima Alla 82esima 52 Oh 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 Aiuto Ferri tutti Non giocare con i sentimenti Ma cosa dici a me o al gioco Al gioco Al gioco No Va bene Dai Guardate ho detto ma che cazzo Non ho detto niente 45 46 46 Sì 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 Il primo 50 e 50 Mi mette Pule su Naida Ce l'abbiamo fatto Dai Quando vuoi Allora Grazie mille Lei grazie a me me l'ho detto Oh 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 Iggy per te Per te Oh Oh Un attimo Ecco Ecco Non pronta psicologicamente Non pronta psicologicamente No stavo anche cambiando il nome del frattempo top L'ho scritto in tempo Uh L'ho scritto in tempo fa ride Aiuto Sono spavento Aiuto Aiuto Ci sono precisa Ho fatto tutto in tempo ragazzi Devevi farmi un applauso poi Va bene Ti faccio volare Tranquillo Eccola No vabbè No vabbè A questa esce quindi A questa o al massimo quella dopo Però probabilmente a questa Vediamo No però Se esce veramente Se esce veramente il dorato Io non so cosa dire Ti giuro Eccola Aspetta Ma come cazzo è possibile Che l'abbiamo veramente Vabbè Vabbè il predict l'ho fatto Ora però c'è da vedere se l'ho fatto bene Aiuto 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 Mi sto sentendo male Giuro Ti giuro Mi sto sentendo malissimo Quando vai Io mi tengo Mi tengo Oddio E infatti Allora Tignani o Amosbo Questo sarebbe 72 Un altro harp 73 Un altro harp No quello è per me 74 Lo lasciamo 75 La prossima 76 No 77 Oh mamma mia 78 G Bella C Ok 5 Che cazzo dici Oh Oh Ma come c'è 5 Io ce l'ho c'è 1 Ce l'ho Su chi Su chi Oh Da sta la gamba Fermi 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 Ma quanto siamo Davide 68 con questa 68 Quindi adesso Dove stai la 59 No 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 Si va a 77 Ah ok 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 E' la terza multi E quindi è Abastanza normale Ok Allora deve essere Le ultime due Dai dai Ansia No Oh ma tutta a voi eh Bene Bene Sta il glitter Che sono pull Quindi molto bene 32 Dai Naida Casa veloce Che Okram Tuo marito Ti reclama Tu ma ormai Tu ma ormai Tu ma ormai l'hai chiamata mia moglie Per me sarà Tu marito Ti reclama Prima si è presentato male Doveva dire ciao Sono il falso Eh sì Oggettivamente Ora me lo salvo il contatto sul telefono Ho scritto Okram falso Anzi ti faccio Okri ti faccio Marco falso E poi metto il cognome Eccola Piti Aspetta Siamo a 33 23 No 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 23 con questa Questa qua è la 23esima 24 No Davide Ho dicia Sì sì 25 26 Vabbè allora scurava tutto lui Eccola Eh dillo dillo Doveva arrivare presto Perché era mia moglie Dillo Okram Dillo dillo Mia moglie è arrivata Però Questa è la multine 5 stelle Davide Senti Dai è Okram Sì 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 E sto a piti 77 Con questa Ok Oh Gesù Ancora più ansia così Le singole alpiti ragazzi Per me sono Dovrebbero essere bannate Ok Eccoci Io C'ho l'occhio chiusi eh Cos'è? Apri lì Sì E' a C2 Porca tronia Ma che coglioni però Che fate Vi giuro eh Cioè Basta 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 Non ne voglio più sapere niente Fermo fermo Abbiamo garantito tanto Eccola Eccola Con il raidone di Franco Ce l'abbiamo fatta Ad arrivarci finalmente Piti 66 Ah cioè è vero E qua stiamo in 10 in meno Oh cazzo Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio C'è un cito Fermi 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 Buoni Buoni Zappa Stai fermo Allora Ok 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 Procediamo No 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 Rega No 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 Vado eh Continuiamo Sì sì io sto malissimo Ti giuro Oh mio dio Zappa Ragazzi Ragazzi Vi insegno Piti 76 Piti 76 Piti 76 Ciao!